benvenuti il centro clinico la quercia oggi è qui con ASD Junior Monticello in particolare con il dottor Marco Verinelli che è responsabile delle attività di base e siamo qui per realizzare un grande sogno quello del progetto Our Assist Your Goal e il nostro sogno è quello di poter aiutare i ragazzi a fare goal a crescere sul campo da gioco e soprattutto sul campo della vita anche attraverso il sostegno alle famiglie e allo staff tecnico il centro clinico la quercia si è dimostrato un gruppo di professionisti nel svolgere le loro funzioni quindi per affiancarci dal punto di vista psicologico dal punto di vista pedagogico dal punto di vista alimentare in tutti quegli aspetti dove noi con le nostre competenze con le nostre qualità non riusciamo ad arrivare attualmente quindi un affiacamento è quello che ci serve come pensiamo serva alle famiglie e ai nostri tesserati per raggiungere gli obiettivi umani sociali e sportivi dentro e fuori dal campo ASD Junior Monticello ha colto il valore del giocare in squadra non solo per quello che riguarda ovviamente la società calcistica ma per quello che riguarda la valorizzazione del territorio perché giocare in squadra è avvalersi di un'equipo multidisciplinare che si avvale di professionisti di diverse competenze però con un unico obiettivo cioè quello di prendersi cura della persona a 360 gradi